Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del vlog Allora, non fate caso ai miei capelli fashion perché sono un po' in disordine Però non importa perché non ci deve interessare Allora, volevo comunque dire pochissime cose Però insomma, ne volevo dire, ecco Ho fatto il video appunto per dire queste poche cose Però che potrebbero essere importanti Allora, volevo comunque dire che nel video di Tomb Raider Quello che è uscito dall'episodio 13 Ho detto praticamente che Cioè abbiamo pensato insomma di fare altre serie Oltre a Tomb Raider e a Minecraft Però insomma Tomb Raider e Minecraft le serie Praticamente come se non costassero nulla Però queste serie che vorremmo fare Vorremmo appunto che voi le sostenete Nel senso che comunque voi dovete sostenerle Per fare un altro episodio ecco Appunto per questo E quindi Insomma Dove sostenere? Naturalmente ancora non pensiamo a che giochi potrebbero essere I giochi Tutti i giochi nostri che abbiamo Ma potrebbero esserci soltanto uno Quindi insomma Potete appunto decidere voi Se farne uno O di più ecco Di giochi Però insomma Che naturalmente gli episodi saranno da sostenere Il primo no Ma il secondo Sì Quindi Insomma Così naturalmente Adesso vi scrivo Praticamente questi giochi da sostenere Ecco Saranno comunque Sono quelli praticamente dei Episodi speciali Però insomma Che potrebbero essere anche In Cose normali Insomma Giochi normali Però insomma Che naturalmente Sosterranno E quindi naturalmente Gli episodi speciali Che saranno tutti i giochi Naturalmente Dovranno essere messi In Iscritti Nel senso Che per sostenere le serie Ci verranno i like Insomma E mi piace Invece Per Fare gli episodi speciali Insomma Gli iscritti Quindi Sarà abbastanza diverso Tutto questo Appunto per questo Volevo Dirvelo No E Che altro Ah sì No Oh ragà Non me lo ricordo Scusate Che ho la mente Un po' per aria Oggi Ah sì Volevo dire Che letteralmente Sull'episodio di Tomb Raider Sull'episodio di Tomb Raider Dovevo salutare Alcuni miei amici Che però Naturalmente Mi sono dimenticata Di salutare Perché insomma Comunque Tu stai Tu stai facendo Un video Con tutte le cose Che hai da fare Che hai da dire Insomma Naturalmente Te ne scorti Però li saluterò Ora Speriamo che Non vi dispiace Se non vi dispiace Ecco I miei amici Tra virgolette In nome d'arte In nome d'arte Di Xbox Volevo salutare Il mio amico Master Daniele E il mio amico Doberman Che è Doberman Non lo so Come si diceva Scusa Doberman Ossia Salvatore Quindi insomma Spero che non vi dispiace Se vi ho salutato In questo video E non quello di Don Brother Infatti dovevo salutarlo Dovevo salutare anche Quelli di Minecraft Ma Naturalmente Me ne sono scordata Però insomma Capita Ecco Quindi Insomma Naturalmente Io vi ho detto Tutto Quindi Cioè io Sotto in descrizione Vi dico Vi ripeto Insomma I giochi Che Potremmo fare Insomma E voi Naturalmente Dovrete Sostenere Queste serie Quindi insomma Ve lo scrivo in descrizione Però voi commentate Commentate Non è che vedete il video Mettete mi piace Dopo non commentate E no No Quindi Se vedete questo video Guardate in descrizione Giusto per vedere Quali sono I giochi E scrivete nei commenti Quale Per il vostro È preferito Quindi insomma Così Facciamo anche la serie Tra quelle E voi lo sostenete Comunque Per oggi è tutto Nel video blog E ci vediamo Nel prossimo video Con i megacraft E mettete mi piace Naturalmente Commentate Naturalmente Iscrivetevi al canale Naturalmente Ciao